Musica Musica Finisce l'estate, terminano le vacanze, c'è la ripresa dell'attività amministrativa, anche dell'attività del governo. Quest'anno addirittura c'è il nuovo governo, quindi le attività del governo iniziano proprio con la fiera del Levante e questo dà nuovamente centralità alla città di Bari e alla fiera dopo tanti anni. Una fiera che si rinnova mantenendo le proprie tradizioni. Quest'anno l'elemento di novità è proprio un padiglione dedicato agli start-upper, quindi una fiera legata alle sue radici, alle sue tradizioni, ma che guarda al futuro. Musica All'Hastag l'abbiamo già scelto, la campionaria avrà come tema, come light motive, l'inquinamento atmosferico, il cambiamento meteorologico, la sostenibilità dell'economia, della sostenibilità nelle aziende. L'Hastag sarà sicuramente quello che fra un po' diremo in conferenza stampa. Non abbiamo un pianeta B, per cui tutto quello che succederà in fiera in queste settimane vedrà incerniato questo argomento e l'economia che può girare attorno a questo argomento. Musica Musica Musica